Questa è una certificazione di un attestato legato al Parco del Cerrano, il Parco Marino, sulla sostenibilità del turismo, che ci pone al centro dell'interesse europeo. Ed è il primo Parco Marino in Italia che prende un attestato di questo tipo. Perché è importante questo evento? È importante, tant'è che poi andremo il 10 e l'11 di dicembre a Bruxelles, con un'iniziativa allargata a esponenti del Parlamento europeo e ai parchi europei. È importante perché ci mette nelle condizioni di poter costruire, così come stiamo facendo, dei partenariati che possano attingere a finanziamenti diretti europei. È importante perché rilanciamo la nostra regione su questioni che riguardano la sostenibilità ambientale e costruiamo poi un progetto che lega la zona costiera con l'entroterra, quindi le riserve dell'entroterra, per far sì che ai nostri turisti possiamo offrire una proposta turistica che sia completa. I progetti in questo caso vorrei dire anche realizzazioni e risultati straordinari, perché essere il primo Parco Marino certificato in Europa per una realtà giovane, nuova, siamo gli ultimi in Italia a essere nati, credo che sia un risultato veramente importante e che è il frutto del lavoro di squadra e dell'impegno dell'applicazione di anni, quindi diciamo che siamo molto contenti di questa parte, ma ancora di più siamo, come dire, proiettati sul futuro, sul fatto che diventiamo noi enti certificatori e quindi in qualche modo possiamo far rientrare le nostre progettazioni anche a livello europeo e avere una strada privilegiata per accedere a finanziamenti. Secondo me l'idea più importante è quella della realizzazione di un quinto parco che tenga dentro le riserve, che tenga dentro i parchi del territorio marino, ce ne sono diverse sulla costa abruzzese, io farei un unico parco della costa. Mettendo insieme questa grande offerta noi realizziamo in scala più grande un'offerta turistica che si può legare a finanziamenti europei importanti e si può legare anche a un'appetibilità per il turista che viene da fuori Italia che vuole abbinare le zone della montagna con le zone della costa.